Ciao a tutti ragazzi con un nuovo video, questo qui è una nuova review di uno smalto sempre Avon della nuova linea Cosmic e questo qui in specifico è color verde scuro che si chiama Eclipse Avon è uscita con questi due nuovi smalti, uno è questo qui che appunto è un verde scuro mentre l'altro è un rosa e dal catalogo non si capisce molto bene ma questi smalti hanno un effetto olografico Vi faccio vedere subito l'applicazione su delle unghie dove ho già applicato una base trasparente protettiva Già dalla prima passata è molto molto coprente e corposo questo smalto Volendo potete fare anche solo una passata e state molto attenti durante l'applicazione perché in alcuni punti con una sola passata si vede leggermente l'unghia in trasparenza Se invece mettete un abbondante passata su tutta l'unghia può bastare anche una passata sola Come vi dicevo questo è uno smalto olografico, il mio è un colore verde scuro, molto molto bello con dei riflessi appunto olografici che vanno dal verde più chiaro, celeste, argento e varie tonalità Al sole è davvero stupendo Mentre nei luoghi poco illuminati risulta quasi un colore verde normale Mi piace davvero molto l'applicazione finale perché anche senza top coat ha un effetto gel molto riempitivo Questo smalto è davvero molto bello anche da solo ma penso che con una Nail Art Galaxy diventa davvero stupendo Se avete visto il mio video dell'Anal Art Galaxy ne ho fatti due mi sembra e vi lascio il link qui sotto nell'info box e in sovraimpressione Fatemi sapere anche se volete magari la Nail Art Galaxy con questo smalto come base La durata è molto buona essendo appunto un colore scuro anche senza top coat dura davvero tanto La rimozione nonostante i micro glitter è davvero molto facile Il pennellino è normale mentre all'interno non ha nessuna pallina per mescolarlo meglio All'interno della boccetta ci sono 10 ml di prodotto e la scadenza di 24 mesi dall'apertura Mi sembra di aver riveduto tutto di questo bellissimo smalto Per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti Fatemi sapere anche se l'avete provato o se vi piace come colore Vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!